La Fondazione Aristide Merloni compie 50 anni e per l'occasione organizza una lezione aperta di economia all'Università Politecnica delle Marche, a tenerla una degli economisti più noti del momento. Vediamo. Affollata la sala del Consiglio della Facoltà di Economia per la lezione di Economia Marche di David Odresh dell'Università dell'Indiana negli Stati Uniti, considerato tra i 60 economisti più quotati al mondo, Odresh è fra i principali studiosi dei processi di innovazione nelle società avanzate e del ruolo che svolgono le piccole e medie imprese. Un appuntamento organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni in occasione del 50esimo anniversario della sua nascita, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e con la rivista Economia Marche. La società imprenditoriale, il titolo della lezione, seguita con attenzione dai tanti che non hanno voluto perdere questa occasione e non solo studenti. Il professore infatti non si è sottratto anche alla discussione sul nuovo ruolo dell'università nella società imprenditoriale, una lezione che ha fornito dunque spunti di riflessione utili anche ai professionisti che operano nelle istituzioni e nelle imprese.